Il futuro del calcio passa attraverso il calcio nelle scuole, nei bambini che devono appassionarsi a questo sport, non dico come gli altri sport tradizionali cinesi, ma sicuramente di più. Una volta che il calcio sarà messo nelle scuole, che sarà insegnato da ex calciatori che ormai sono diventati tanti, ex calciatori che hanno giocato nei campionati anche importanti in Cina e non solo in Cina, allora la crescita del calcio giovanile potrà determinare un futuro migliore per il calcio cinese.